Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube. Sono Fra Mora, l'obbligazione del mio nome e cognome è Francesco Moravito e in questo canale condividerò le mie esperienze con un duplice scopo. Da un lato lo scopo principale è quello di farti conoscere le bellezze del mondo, di ispirarti magari per un prossimo viaggio o aiutarti nell'organizzare un viaggio che è già in programma, quindi cosa vedere, quando andare, cosa fare, il tragitto. Ho aperto questo canale da poco ma viaggio veramente da tantissimi anni, ho visitato già 34 paesi, gran parte da solo, quindi posso dire onestamente di essere bravo nel viaggiare, sono bravo nell'organizzare il tutto affinché si possa ottenere il meglio da ogni esperienza. Il mio modo di viaggiare è un modo sostenibile, questo vuol dire avere un impatto positivo dei luoghi che si visitano, quindi in primis per me c'è il rispetto per l'ambiente e per gli animali e mi piace sempre immergermi nella cultura a 360 gradi, quindi a partire dal cibo, mangiare cose tipiche, capirne la storia, capire la cultura, capirne le tradizioni. E dall'altro lato siccome penso che viaggiare sia una delle maniere più belle per crescere come persone, voglio utilizzare questi video per mandare messaggi positivi, generarti emozioni positive, stimolarti a vivere la vita che vuoi tu, perché il viaggio deve essere un qualcosa di bello, un qualcosa che arricchisca la tua vita e la renda ancora più piacevole e non un mezzo per scappare da una vita che non ti piace. Mi piace pensare ai miei video come a delle canzoni, quindi ci sarà quel video che ti farà riflettere, il video che ti farà sorridere, quel video che ti farà magari commuovere. Bene ragazzi, se condividete i miei stessi valori allora vi invito a seguire il mio canale e non perdete altro tempo e iniziate subito a guardare qualche video. Un saluto e ci vediamo in giro per il mondo!